Continua senza sosta l'attività formativa degli uomini del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Crotone. Nei giorni scorsi il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Crotone ha visto arrivare unità da tutta la Regione per aggiornamenti ed esercitazioni di grande importanza per il soccorso tecnico urgente che vede impegnati gli stessi Vigili del Fuoco tutti i giorni in interventi ordinari e in grandi calamità sia in terra che in mare. Durante la settimana scorsa in località Santa Domenica i Vigili del Fuoco hanno simulato interventi su paleoliche visto il numero sempre in aumento nel nostro territorio. L'operazione è particolarmente complessa essendo in ambiente confinato ha impegnato sei unità per un totale di 22 provenienti da tutta la Regione. Si è concluso presso il Comando Vigili del Fuoco di Crotone il corso regionale per il conseguimento della patente nautica Vigili del Fuoco di prima categoria per conduzione di imbarcazioni in operazione di soccorso in mare e acque interne il corso della durata di due settimane ha visto impegnate otto unità appartenenti ai comandi di Crotone, Vibo Valencia, Reggio Calabria e Cosenza sotto la guida didattica di due istruttori Vigili del Fuoco del settore specifico Affrontate lezioni teoriche di nautica, navigazione, normativa del settore nell'aula magna del Comando Provinciale e lezioni pratiche di conduzione e ormeggio di imbarcazione tenutisi quest'ultimo nello specchio di mare antistante la costa crotonese e il porto. Continua con grande successo il lavoro svolto dal Comando di Crotone diventato punto di riferimento del settore nautico visto la posizione strategica e organizzazione logistica che permette di effettuare i corsi acquatici. Per la sistemazione e varro dei mezzi si ringrazia la Lega Navale di Crotone